Nella ricerca di una vita piena ed equilibrata, è fondamentale riconoscere che non tutti i comportamenti di chi ci circonda sono accettabili. Lo stoicismo, una filosofia che ci invita a coltivare la virtù e la forza interiore, ci insegna a stabilire limiti sani nelle nostre relazioni. In questo video esploreremo dieci comportamenti che non dovresti tollerare da nessuno, ricordandoti che meriti rispetto e dignità. Imparare a dire no e a proteggere il tuo benessere emotivo è fondamentale per vivere in armonia con te stesso e con gli altri. Unisciti a noi in questo viaggio verso la consapevolezza e l'assertività e scopri come applicare i principi stoici per migliorare la tua vita. Prima di cominciare con la prima lezione, se trovi utili questi video, ti invito a iscriverti e ad attivare le notifiche per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Iniziamo. 1. Le mancanze di rispetto. C'è una cosa che non dovrebbe mai essere negoziabile nella vita, la tua dignità. Se il rispetto è qualcosa che tutti esigiamo quasi automaticamente, non è sempre qualcosa che ci viene concesso con la stessa facilità ed è lì che iniziano i problemi. Quante volte hai dovuto morderti la lingua, fare un respiro profondo e lasciar correre quel commento che ti ha punzecchiato come una zanzara d'estate? Sì, quel commento che a volte viene mascherato da scherzo o critica costruttiva, ma che in realtà sta minando poco a poco ciò che sei e ciò che apprezzi. Parliamo della mancanza di rispetto, perché è qualcosa con cui tutti ci siamo confrontati, sia al lavoro, nelle relazioni personali o anche in famiglia. Nessuno è esente dall'incontrare atteggiamenti che cercano di sminuire o ridicolizzare ciò che sei. E la cosa più ironica, o tragica a seconda dei punti di vista, è che spesso lo permettiamo, lasciamo che accada come se fosse una cosa normale, ma la realtà è che non dovresti tollerarlo neanche una volta di più. A volte il disprezzo arriva con un sorriso, con quelle piccole frasi passive e aggressive che sembrano innocue, ma che bruciano dentro. Il classico «sicuro che ce la fai» o «perché ti sforzi tanto, tanto non serve». Sono frasi che sembrano banali, ma scivolano come coltelli sotto la pelle. Qui entra in gioco la filosofia stoica. Gli stoici erano chiari sul fatto che non puoi controllare ciò che fanno gli altri, ma sì come reagisci. Quindi la domanda è, resterai davvero fermo a lasciar decidere agli altri il tuo valore? Ora, parliamo degli insulti camuffati da battute. Quanti insulti maldissimulati sotto l'etichetta di «era solo uno scherzo», come se fosse un passaporto universale per ferire senza conseguenze? E, naturalmente, se ti offendi, sei tu a non avere senso dell'umorismo, quello che si prende tutto sul serio. Ma il problema non sei tu. È questa cultura del «è solo uno scherzo» che perpetua il maltrattamento mascherato. Dovresti sentirti libero di stabilire un limite senza sentirti in colpa. Sì, era uno scherzo, ma non ha fatto ridere. Possiamo parlare di altro? Così ti ritiri come se niente fosse. Questo è autocontrollo, solo. Questa è dignità. Poi c'è quel disprezzo che arriva sotto la bandiera della preoccupazione. Persone che ti criticano con la scusa che lo fanno per il tuo bene. Come se mettere in dubbio le tue decisioni o farti sentire insufficiente fosse una grande dimostrazione di amore e cura. La chiave qui è non lasciare che ti facciano dubitare di te stesso. In questo momento, devi ricordare che la tua autostima non è in vendita. Non hai bisogno dell'approvazione di nessuno per sapere quanto vali o per definire le tue decisioni. E cosa puoi fare? Primo, impara a riconoscere questi comportamenti. Non è sempre facile, perché il disprezzo e l'insulto non arrivano sempre in modo evidente. A volte sono più sottili di un insulto diretto. Una volta che lo riconosci, il passo successivo è non permetterlo. Non devi essere aggressivo, ma sì chiaro. Ricorda, come direbbero gli stoici, che non puoi controllare ciò che pensano o dicono gli altri, ma puoi controllare come permetti che ti influenzino. La fermezza nei tuoi limiti è un atto di rispetto verso te stesso. Quando ti rispetti, non hai bisogno che gli altri lo facciano per te. Non lasciare che nessuno ti dica quanto vali, specialmente con insulti, critiche mascherate da preoccupazione o battute offensive. Mantieni la calma, ma mantieni anche la tua dignità intatta. Non si tratta di reagire con rabbia o risentimento, ma di capire che il rispetto è la base di ogni relazione sana. E se qualcuno non è disposto a rispettare i tuoi limiti, non merita di stare al tuo fianco. Alla fine, ciò che conta è come ti vedi tu stesso. E questo, caro amico, non è in discussione. Come diceva Jung, il rispetto per se stessi è l'inizio di ogni rispetto. 2. La manipolazione emotiva. A volte sembra che le persone vengano con fili invisibili e credano di poterli tirare al loro piacimento per manipolare le tue emozioni. E tu lì, come un burattino, permetti loro il lusso di decidere quando arrabbiarti, quando ridere e quando sfinirti di tanto in tanto. Ecco ciò che consigliavano gli stoici, quei filosofi dell'antichità che avevano già compreso molte delle astuzie umane. Mantenere il controllo di sé, capire che l'unica cosa veramente sotto il proprio dominio è la reazione a ciò che accade. Sì, questo significa anche non lasciarsi trascinare nel turbolento fiume delle emozioni altrui. Ma come fare? Perché in teoria suona bene, ma è nella pratica che le cose si complicano. Prima di tutto, individua i comportamenti che non dovresti tollerare. Ad esempio, se qualcuno ti fa sentire in colpa per aver stabilito dei limiti o per aver espresso le tue necessità, fermalo subito. I limiti servono per proteggerti, non per creare disagio agli altri. Se qualcuno sminuisce i tuoi successi o ti fa credere che la tua felicità dipenda dalla sua approvazione, rivedi quella relazione. Anzi, se qualcuno ti fa pensare che amare significhi sacrificare la tua serenità per la sua stabilità emotiva, scappa il più lontano possibile. Non sei qui per essere l'eroe della storia di nessun altro, specialmente se alla fine non c'è nemmeno un grazie. Gli stoici parlavano dell'importanza di comprendere la differenza tra ciò che puoi controllare e ciò che non puoi. La manipolazione emotiva cerca di fare esattamente l'opposto, facendoti sentire responsabile per qualcosa che non è chiaramente tuo. Se impari a riconoscere questi comportamenti e a distinguerli, potrai prendere decisioni consapevoli. E questo, amico mio, è il primo passo per liberarti da questi fili invisibili. Per evitare di cadere in questi giochi, ricorda alcune cose essenziali. Quando senti che stai cedendo per paura della reazione emotiva dell'altro, fai un respiro profondo e prenditi un momento di riflessione. Chiediti, questa emozione è mia o mi è stata imposta? Non avere paura di fissare i tuoi limiti con fermezza, anche se questo provoca disagio. Il disagio temporaneo di stabilire un confine è infinitamente migliore dell'insofferenza continua di vivere all'ombra della manipolazione. Alla fine della giornata, ricordati che non sei un parco di divertimenti in cui gli altri possono giocare con le tue emozioni. La manipolazione emotiva è come un prestigiatore da quattro soldi che cerca di distrarti con trucchi mediocri, mentre tu rimani stupito dalla mano che nasconde la carta. Non sei qui per essere il pubblico di nessuno, né per vivere la vita secondo il copione di un manipolatore. Gli stoici capivano che l'unica cosa che puoi davvero controllare sono le tue emozioni e le tue reazioni, ed è proprio questo che ti rende libero. Quindi taglia quei fili, non perché tu sia insensibile o egoista, ma perché conosci il tuo valore. Dopotutto, nessuno dovrebbe essere il protagonista della tua vita se non tu stesso. Che ti sia chiaro, amico mio, quando smetti di essere l'eroe di qualcun altro, inizi a essere il protagonista della tua stessa storia. 3. La violenza fisica o verbale. Mettiamo subito le cose in chiaro. Nessuno ha il diritto di trattarti male. Ti sembra un concetto ovvio? Eppure, per molti purtroppo non lo è affatto. Siamo stati abituati a tollerare l'intollerabile sotto il pretesto dell'amore, dell'amicizia o, peggio ancora, dell'educazione, ed è ora di dire basta. Comportamenti abusivi, siano essi fisici o verbali, non sono mai accettabili. E se qualcuno ti dice il contrario, forse è il momento di cercare nuove amicizie o, se necessario, un nuovo luogo dove vivere. Iniziamo con la violenza fisica. Se qualcuno ti colpisce, ti spinge o ti afferra con troppa forza, si tratta di un'aggressione. Punto. Non esistono giustificazioni come «è stato solo un momento d'ira» o «ero troppo arrabbiato» e la peggiore di tutte «ti amo troppo, non ho saputo controllarmi». Ecco, se il tuo cane salta di gioia ogni volta che torni a casa, è comprensibile, perché è un cane. Ma se una persona giustifica la propria violenza fisica con l'amore, allora avresti più bisogno di un buon avvocato che di una conversazione romantica. Poi c'è la violenza verbale, quella che molti mascherano come sincerità o con la frase «sono fatto così». Curioso, vero? La gente è sempre così quando si tratta di demolirti con le parole. Ma poi sul lavoro o davanti agli estranei sanno essere persone dolcissime. La verità è che nessuno dovrebbe parlarti con insulti, sminuirti o farti sentire inferiore, e tantomeno coloro che affermano di volerti bene. Il rispetto, in questo caso, dovrebbe essere come l'aria, invisibile, ma vitale. A differenza dell'aria, però, la mancanza di rispetto è molto più facile da notare, perché ti lascia senza voglia di respirare. Poi c'è la violenza psicologica, una delle forme più sottili e subdole. Qui parliamo di manipolazione emotiva, di ricatti e di tutte quelle piccole mosse che, anche se non lasciano un livido visibile, ti logorano dall'interno. Ti è mai capitato, dopo una discussione con qualcuno, di ritrovarti con la sensazione di essere tu il colpevole di tutto, senza sapere come? Benvenuto nel mondo dei maestri della manipolazione. Ti assicuro che nemmeno gli stoici avrebbero resistito a un tale livello di caos mentale senza perdere la pazienza. Qui arriva la parte difficile. Come fermare tutto questo? La prima chiave è la conoscenza di sé. Se sai quanto vali, e non solo a parole, sarà più facile capire quando qualcuno sta oltrepassando un limite. Il problema è che a volte abbiamo permesso certi comportamenti per così tanto tempo che non distinguiamo più il normale dal tossico. Ed è qui che bisogna fermarsi a riflettere e chiedersi, è davvero questo che voglio continuare a sopportare? Un'altra strategia è la comunicazione diretta, senza scuse e senza fronzoli. Dire questo non mi piace, o questo non lo accetto, non ti rende la cattiva della storia, ma una persona con dignità. È come quando ti offrono una bevanda che odi. Non la bevi per cortesia, giusto? Con i comportamenti tossici è lo stesso. Bisogna imparare a dire di no con la stessa naturalezza con cui rifiuti un caffè cattivo. Non devi tollerare comportamenti che ti sminuiscono, siano essi fisici, verbali o psicologici. La vita è troppo breve per passare il tempo a raccogliere i pezzi della tua autostima dopo ogni interazione. Meriti relazioni in cui il rispetto sia la norma, non l'eccezione. Ricorda, mettere limiti non è egoismo, è protezione del proprio benessere. Alla fine della giornata, solo chi ti rispetta ti merita davvero. Come dice un saggio proverbio stoico, chi ti ferisce sotto il pretesto dell'affetto non sa cosa sia il vero affetto. Ecco dove la filosofia stoica può darti un'indicazione. Gli stoici credevano che non puoi controllare ciò che fanno gli altri, ma puoi controllare come reagisci a tutto questo. Non si tratta di sopportare comportamenti tossici, come se non ti riguardassero, bensì di imparare a vedere la realtà per quella che è e agire di conseguenza. Se qualcuno ti mente e nasconde la verità, il primo passo è riconoscerlo. Non illuderti pensando che quella persona cambierà come per magia. La disonestà cronica non scompare solo perché lo desideri. Accettata la situazione, il passo successivo è stabilire confini chiari. Immagina che la tua vita sia una casa e le porte siano i limiti che decidi di mettere. Non lasciare che chiunque entri e prenda ciò che vuole. Se qualcuno è disposto a tradire la tua fiducia, chiudi la porta e mantieni la distanza necessaria per proteggere la tua pace mentale. Non si tratta di essere crudeli o vendicativi, ma di dare valore al tuo benessere rispetto alle bugie degli altri. E se tutto questo non basta? A volte, per quanto ti impegni a mettere dei limiti, le persone disoneste continuano a oltrepassarli. In quel caso, devi prendere decisioni più drastiche. Alla fine, le relazioni umane devono basarsi sulla fiducia reciproca e, se qualcuno l'ha distrutta più volte, è il momento di chiederti se davvero hai bisogno di quella persona nella tua vita. Sai, la vita è troppo breve per circondarsi di persone poco trasparenti. A volte lasciare andare è la scelta più sana che puoi fare. Come ha chiarito Seneca, la verità è uno specchio. Una volta rotto non riflette più la stessa immagine. Non sprecare tempo cercando di rimettere insieme qualcosa che non potrà mai essere uguale. Alla fine, vivere con onestà verso te stesso e verso gli altri è ciò che realmente ti permette di camminare sereno per la vita. Il controllo eccessivo. Ti sei mai accorto che alcune persone intorno a te sembrano avere una specie di ossessione per gestire la tua vita? È come se avessero il telecomando delle tue decisioni, delle tue relazioni o persino della tua libertà. In quei momenti è facile cadere nella trappola e lasciare che gli altri diventino i registi della tua vita. Ma diciamoci la verità, non sei arrivato fin qui per diventare una semplice comparsa nella tua storia. O sì, ci sono persone che possiedono l'abilità sorprendente di entrare nella tua vita come se fossero esperti nel dirigerla meglio di te. Forse ti dicono con chi dovresti stare o come comportarti in una determinata situazione. Non solo esprimono opinioni, ma cercano, in modo sottile o evidente, di dominare le tue decisioni. È per il tuo bene, dicono, mentre tracciano il percorso della tua vita secondo i loro interessi. E tu, che ruolo hai in tutto questo? Quello di qualcuno che lentamente cede terreno? Questo controllo eccessivo è più comune di quanto sembri. Può arrivare da quell'amicizia preoccupata, da un familiare che sa sempre meglio di te o persino da un partner che cerca di modellarti secondo le sue aspettative. E se ci pensi, è assurdo. Non sei qui per essere la marionetta delle insicurezze o dei desideri altrui. Qui è dove la filosofia stoica ha molto da insegnarci. Gli stoici dicevano che l'unica cosa che davvero controlliamo è la nostra mente, i nostri pensieri e le nostre azioni. Tutto il resto è territorio altrui. In questo senso, perché permettere a qualcuno di invadere l'unica cosa che veramente è tua? Immagina che la tua vita sia un giardino. Puoi curare i fiori, annaffiarli, potarli. Ma se lasci che chiunque entri a dirti dove piantare, quali fiori estirpare e quali alberi seminare, quel giardino smette di essere tuo e diventa una collezione di decisioni altrui. Allora, cosa fare quando qualcuno cerca di controllarti? La risposta sembra semplice, ma nella pratica può essere più complessa. Di no. Non con rabbia o risentimento, ma con fermezza. Il no è la barriera efficace per chi cerca di dominare la tua indipendenza. Non devi giustificare ogni tua decisione. A volte è semplicemente una questione di rispetto per i tuoi limiti. Una strategia utile può essere adottare un atteggiamento di indifferenza, qualcosa che gli stoici chiamavano atarassia, uno stato di serenità imperturbabile. Non lasciare che la pressione esterna diventi rumore interiore. Quando qualcuno insiste nel cercare di gestire la tua vita, respira a fondo e ricorda che solo tu decidi quanto peso dare a quelle opinioni. In fin dei conti, ognuno dovrebbe prendersi cura del proprio giardino. Ma c'è qualcosa che devi tenere chiaro. Non è necessario essere uno stoico tutto il tempo, ingoiando le emozioni come fossero pietre, specialmente quando si tratta di comportamenti che non dovresti mai accettare da nessuno. E uno di questi comportamenti è la mancanza di empatia. Ti sarà sicuramente capitato. Affronti una situazione difficile, provi a condividere quello che senti, ma la persona con cui parli ti guarda come se le stessi raccontando cosa hai mangiato ieri. E sai qual è la cosa peggiore? Non è che non ti ascolti, è che semplicemente non le importa. In quei momenti ti chiedi, è possibile che non capisca cosa sto passando? La risposta dolorosa è no. La mancanza di empatia è come quell'invitato indesiderato che arriva alla festa senza salutare nessuno e mangia tutta la torta senza chiedere il permesso. Non ha alcun interesse per le tue emozioni, i tuoi pensieri, tanto meno per il tuo benessere. Si limita a stare lì senza dare nulla e, peggio ancora, ti lascia sentendoti solo, anche se sei in compagnia. Queste persone hanno la capacità di trasformare i tuoi problemi in semplici aneddoti o, peggio, in inconvenienti per loro. Se ti è capitato di esprimere i tuoi sentimenti e ricevere risposte del tipo «tutti abbiamo problemi» o «un disinteressato passerà», allora hai già conosciuto il volto della mancanza di empatia. Perché lo tolleri? Forse perché ti sei convinto che non puoi pretendere di più o magari perché ti hanno fatto credere che chiedere comprensione o sostegno emotivo sia un lusso che non tutti possono permettersi. Ma lasciati dire una cosa, non è un lusso, è una necessità. Se continuiamo a giustificare la mancanza di empatia con scuse del tipo «non sa esprimersi» o «avrà molto a cui pensare», finiamo per minimizzare le nostre stesse necessità emotive. È come avere una pianta e non annaffiarla mai, pensando che il sole possa bastare. Prima o poi però la pianta si secca, non puoi vivere delle briciole emotive degli altri. Che fare davanti alla mancanza di empatia? Non esiste una formula magica, ma ci sono strategie che possono aiutarti. La prima è imparare a stabilire dei limiti. Non si tratta di fare drammi, ma di essere chiari su ciò di cui hai bisogno e su cosa non sei disposto a tollerare. Se qualcuno non mostra un interesse genuino in ciò che ti riguarda, forse non merita di essere così presente nella tua vita. Un'altra opzione è trovare la tua rete di supporto, circondarti di persone che sappiano davvero ascoltare e accompagnare, persone che non abbiano bisogno di grandi discorsi per mostrarti che ci tengono. Cerca spazi in cui ti senti valorizzato, non come un obbligo, ma come un desiderio sincero di esserci per te. E infine, lavora sul tuo benessere emotivo. Non si tratta di essere immuni agli altri, ma di imparare a identificare quando non stanno dando ciò di cui hai bisogno e agire di conseguenza. Perché alla fine non si tratta solo di sopravvivere, ma di vivere con pienezza. La vita non è fatta per sopportare l'insopportabile. Ci sono persone che semplicemente non ti meritano. Se noti che qualcuno mostra costantemente una mancanza di empatia, che non ha mai spazio per le tue emozioni e appare solo quando gli conviene, è ora di rivalutare quella relazione. Alla fine, non conta quante persone hai intorno, ma quante sono davvero con te. Come diceva Gandhi, chi ti apprezza ti ascolta e chi ti ascolta si prende cura di te. Le critiche costruttive. Vediamo un po', perché tutti lo abbiamo vissuto. Stai facendo qualcosa, magari è il tuo lavoro, un progetto personale o semplicemente stai vivendo la tua vita. E all'improvviso, zac! Appare qualcuno con quella critica distruttiva che ti fa chiedere, era davvero necessario? È come se alcuni venissero al mondo con la missione di farti sentire che tutto ciò che fai sia sbagliato, senza un briciolo di costruttività nelle loro parole. A tutti è stato detto qualcosa che, invece di aiutare, ci ha buttato giù. Ma perché dovremmo sopportare comportamenti del genere? E soprattutto, perché dovrebbero trovare spazio nella nostra vita? Le critiche distruttive non sono altro che un modo velato di sfogare la frustrazione altrui, come se qualcuno scivolasse dalle scale e decidesse di tirarti una pietra per puro dispetto. Perché, diciamocelo, se quella critica non porta con sé una soluzione o un consiglio utile, serve solo a distruggere. Ed è qui che dovresti mettere dei limiti, come facevano gli stoici, che capivano di dover dare attenzione solo a ciò che realmente apportava qualcosa di positivo nella loro vita. Uno degli errori principali che commettiamo è dare più peso a ciò che dicono gli altri rispetto a ciò che sappiamo di noi stessi, del nostro lavoro o del nostro impegno. Perché? Sembra quasi che viviamo per soddisfare tutti tranne noi stessi. Ci preoccupiamo così tanto del giudizio altrui che finiamo per dare a chiunque il diritto di esprimere opinioni, anche se quella critica è come un paio di scarpe rotte che non porta da nessuna parte. Ora, non confondiamo le cose. Una critica costruttiva, per quanto possa fare male, ha uno scopo. Quella critica ben intenzionata è come uno specchio. Ti permette di vederti meglio, correggere gli errori e crescere. Ma quella distruttiva è più come uno specchio rotto. Riflette solo pezzi distorti di te stesso e, se non stai attento, potresti tagliarti. Non è necessario, né giusto, tollerare commenti che, anziché costruirti, cercano solo di vederti cadere. Ed è qui che entra in gioco la filosofia stoica, che ci insegna a non perdere tempo con ciò che non possiamo controllare. E se non puoi impedire a qualcuno di spargere veleno sotto forma di commento, puoi però decidere come rispondere. Vale davvero la pena dare attenzione a una persona che non ha niente di meglio da fare che criticare ciò che non comprende? È un buon momento per applicare una strategia semplice. Ascolta solo chi è disposto ad aiutarti, non chi vuole vederti affondare. Un approccio utile è considerare la critica distruttiva come rumore di fondo in un caffè. La senti, ma non le presti attenzione, perché sai che non è rilevante. Alla fine, ciò che conta è come ti senti rispetto al tuo impegno e come puoi migliorare, non cosa gli altri pensano di te senza conoscenza o intenzione di supportarti. Quindi, la prossima volta che ricevi una critica distruttiva, chiediti, cosa aggiunge realmente questa opinione? Se la risposta è nulla, allora non merita un secondo della tua attenzione. Il tempo è troppo prezioso per sprecarlo con persone che non sono interessate a vederti crescere. Come diceva mio padre, pace all'anima sua. Non è tuo compito caricarti dei pregiudizi e delle frustrazioni degli altri, ma costruire il tuo cammino nonostante esse. L'indifferenza. A volte lasci correre quella piccola sensazione di disagio, quel commento che ti lascia una strana sensazione, quel vuoto che ti assale quando qualcuno importante ti ignora senza un motivo apparente. All'inizio non ci fai molto caso, ma col tempo ti chiedi se dovrebbe essere davvero così. Fino a che punto è normale ignorare ciò che senti, di cosa hai bisogno, ciò che sei. In un mondo dove sembra che essere forti significhi sopportare tutto, è facile cadere nella trappola di accettare l'indifferenza o la negligenza degli altri come una cosa normale. Ma se ti dicessi che tutto questo non ha niente di normale? L'indifferenza o la negligenza sono comportamenti sottili, ma devastanti. Non stiamo parlando di grandi tradimenti o gesti eclatanti, ma di ciò che accade ogni giorno, quelle piccole cose che sembrano non importare, ma che piano piano ti consumano. Per esempio, quando esprimi i tuoi sentimenti e ottieni solo un muro di silenzio, o quando chiedi qualcosa di cui hai bisogno, tempo, comprensione o sostegno, e ti rispondono con un poi, che però non arriva mai. Suona familiare? Ignorare i tuoi bisogni emotivi, fisici o relazionali, è, in poche parole, una forma di maltrattamento. Perché sì, anche se sembra forte, permettere a qualcun altro di farti sentire costantemente invisibile è una forma di mancanza di rispetto. Lo stoicismo, ad esempio, parla molto dell'importanza di non dipendere dalle azioni degli altri per trovare la tua pace interiore. Ma questo non significa che tu debba tollerare qualsiasi cosa. Essere stoico non vuol dire essere uno zerbino su cui tutti possono camminare, ma imparare a discernere cosa merita la tua energia e, soprattutto, a chi merita di riceverla. Allora, cosa puoi fare? No, non ti sto suggerendo di metterti un mantello da supereroe emotivo e affrontare chiunque ti tratti male con un discorso preparato. Non serve arrivare a questi estremi. Ma è importante, quando noti che qualcosa non va, permetterti di stabilire dei limiti. I limiti non sono muri. Sono come segnali stradali che indicano fin dove puoi arrivare senza perderti. Se qualcuno ti ignora, ti sminuisce o semplicemente non ti dà il posto che meriti, chiediti, voglio davvero questo nella mia vita? Perché a volte, per evitare conflitti, finisci per ferirti più di quanto credi? È come quando hai sete e qualcuno ti offre un bicchiere vuoto. Puoi fingere di stare bene per un po', ma la sete non passa. Ignorare le tue necessità non è segno di forza, ma di qualcosa che deve cambiare. Questo non significa che tu debba troncare i rapporti in modo radicale o attirare drammi. Significa piuttosto imparare a comunicare ciò di cui hai bisogno e rendere chiaro che il tuo benessere emotivo, fisico e relazionale non è negoziabile. non sarà sempre facile perché le persone non cambiano solo perché tu lo desideri. Tuttavia, ogni volta che difendi il tuo spazio, ti rafforzi un po' di più, non per diventare una versione più dura di te stesso, ma una versione più consapevole. In conclusione, l'indifferenza e la negligenza sono comportamenti che nessuno dovrebbe tollerare e la chiave sta nel saperli riconoscere e agire di conseguenza. A volte la miglior risposta non è alzare la voce, ma smettere di ascoltare chi non ti valorizza. Ricorda che, alla fine della giornata, i tuoi bisogni sono validi quanto quelli degli altri. Non si tratta di egoismo, ma di prendersi cura di sé. Come dice Brian Tracy, quello che tolleri oggi sarà ciò che ti consumerà domani, non permettere che l'indifferenza ti tolga il posto che meriti. 10. La gelosia. Ti è mai capitato di sentirti in colpa per fare ciò che ti piace, vedere i tuoi amici o coltivare interessi che non includono quella persona speciale? Se ti succede, hai un problema che non dovresti ignorare. Stiamo parlando della gelosia, o meglio, di quel possesso estremo che alcuni camuffano come amore, ma che in realtà è più tossico di una pianta velenosa. diciamolo chiaramente. Cercare di limitare la tua libertà o farti sentire in colpa per avere altre relazioni o interessi non è qualcosa che dovresti sopportare da nessuno. Prima parliamo di libertà. Che bella parola, vero? Tutti la vogliono, ma pochi sono disposti a concederla. Alcuni si ostinano a metterle delle catene, soprattutto nelle relazioni. Ti dicono cose come «Se davvero mi amassi, non avresti bisogno di nessun altro» o «Perché ti entusiasma così tanto passare del tempo con gli altri se già hai me?» E tu lì, a chiederti se davvero non dovresti essere così felice per quel caffè con gli amici o quel pomeriggio da solo con un buon libro. Spoiler. Dovresti. Il problema è che ci hanno venduto un'idea sbagliata dell'amore. Ci hanno detto che, quando ami, dai tutto fino all'ultimo angolo di te stesso e, anche se sembra romantico, la realtà è che l'unica cosa che dovresti dare è rispetto, supporto e fiducia. Perché l'amore non dovrebbe soffocare, ma permetterti di crescere e fiorire. Se qualcuno cerca di rinchiuderti nella sua idea di come dovrebbe essere una relazione, ciò che sta facendo realmente è imporre dei limiti, non amarti. Gli stoici, quei filosofi tanto saggi, lo sapevano bene. Difendevano l'idea che l'unica cosa che possiamo controllare nella vita è il nostro atteggiamento e le nostre azioni. Ciò che gli altri pensano o fanno non è nelle nostre mani. Allora perché lasciare che qualcun altro decida per te come dovresti sentirti, chi puoi vedere o quali interessi puoi avere? Se non puoi controllare ciò che gli altri sentono o pensano, che senso ha cambiarti per compiacerli? È come se la tua vita fosse un giardino e il tuo partner, la tua famiglia o i tuoi amici fossero i giardinieri. Un bravo giardiniere sa quando innaffiare, quando potare, ma anche quando lasciare che i fiori crescano da soli. Non puoi permettere che qualcuno venga con una forbice enorme e tagli i tuoi rami o provi a rinchiudere le tue radici in un vaso più piccolo. È la tua vita, il tuo giardino e se vogliono condividerlo con te, perfetto, ma non devono ridisegnarlo a loro piacimento. Allora cosa fare quando ti rendi conto di essere in una relazione con qualcuno che ti limita? Prima di tutto, parlane. A volte le persone non si accorgono nemmeno di essere possessive o gelose, ma fai attenzione. Se dopo averne discusso continuano a farti sentire in colpa per vivere la tua vita, è il momento di prendere delle decisioni. Una relazione di qualsiasi tipo non dovrebbe mai privarti della tua libertà. Se lo fa, c'è qualcosa che non va. Non si tratta di diventare egoisti o di ignorare gli altri, ma di comprendere che la tua libertà è fondamentale e chi ti ama dovrebbe saperla rispettare. In fondo, amare qualcuno significa anche dargli spazio per essere, crescere e fiorire nel proprio giardino. Non tollerare comportamenti che ti limitano, ti sottraggono o ti fanno sentire in colpa per essere te stesso. L'amore, come la libertà, deve essere uno spazio in cui ci sentiamo sicuri di espanderci, non di rinchiuderci. La prossima volta che qualcuno tenterà di zittirti, ricorda, la vera connessione nasce dal rispetto, non dal controllo. Tieni a mente queste parole, perché ti saranno utili. Il vero amore non ha bisogno di catene per sentirsi sicuro. Le ali libere tornano sempre per scelta propria.